Rinalda Montani, Presidente Comitato Unicef Padova. Sono giorni coincidati questi per voi? Molti appuntamenti aspettano le famiglie e soprattutto i bambini? Sono giorni intensi per i volontari dell'Unicef. Incominciamo subito da questa sera a Abano. Verrà proiettato il film I bambini sanno, che ha avuto come regista Walter Veltroni un bellissimo messaggio per le famiglie e per i bambini. Domani, una giornata veramente importante, al pomeriggio al Caffè Pedrocchi ci sarà la tradizionale presentazione e apertura delle campagne pigotte raccolta fondi per i bambini in fuga, i bambini dei campi profughi. Ci teniamo perché queste pigotte sono state create dalle nonne delle case di riposo soprattutto durante tutto l'anno. Quindi è un dono che ha un doppio valore. Un lavoro delle nonne è il valore che ognuna di queste pigotte può salvare una vita. In questa occasione saremo lietati dal coro del CAI di Padova e presenteremo anche il nostro calendario UNICEF che ha un titolo accattivante per le famiglie e per i bambini da grande farò. Quindi il nostro invito è di venire in tanti domani pomeriggio dalle 14, dalle 16 diciamo alle 18 e 30 bambini e famiglie insieme per fare un momento di festa come è poi nel nostro stile uniti per i bambini, per tutti i bambini e soprattutto per quelli che hanno più bisogno.